La missione di Gesù non parte da Gerusalemme, cioè dal centro religioso, centro anche sociale e politico, ma da una zona periferica, una zona disprezzata dai giudei, per la presenza in quella regione di diverse popolazioni straniere, un luogo decentrato, con gente dal basso profilo si direbbe oggi, e che per questo veniva indicato dal profeta Isaia come la Galilea delle Genti. Lo ha ricordato ieri mattina Papa Francesco in occasione della recita dell'Angelus con i fedeli giunti in piazza San Pietro, commentando il passo del Vangelo che racconta gli inizi della vita pubblica di Gesù nelle città e nei villaggi della Galilea. Si tratta, ha spiegato il Papa, di una terra di frontiera, una zona di transito dove si incontrano persone diverse per razza, cultura e religione. La Galilea, quindi, luogo simbolo per l'apertura del Vangelo a tutti i popoli, che assomiglia tanto al mondo di oggi, con la compresenza di diverse culture che vivono con la necessità del confronto e dell'incontro. Anche noi siamo immersi ogni giorno in una Galilea delle Genti e in questo tipo di contesto possiamo spaventarci e cedere alla tentazione di costruire recinti per essere più sicuri e più protetti. Ma Gesù ci insegna, ricorda il Papa, che la buona novella che lui porta non è riservata ad una parte dell'umanità, ma è da comunicare a tutti. Proprio partendo dalla Galilea, Gesù ci insegna che nessuno è escluso dalla salvezza di Dio, anzi che Dio preferisce partire proprio dalla periferia, dagli ultimi, per poter raggiungere tutti. Riprendendo le parole dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, il Papa ricorda che tutti siamo invitati a rispondere alla chiamata, ossia uscire dalla nostra comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Per scegliere i suoi primi discepoli, Gesù non si rivolse alle scuole degli iscrivi o ai dottori della legge, ma alle persone più umili. Ancora oggi il Signore passa per le strade della nostra vita quotidiana e ci invita a seguirlo. Da qui l'esortazione di Papa Francesco. Se qualcuno di voi sente che il Signore gli dice seguimi, sia coraggioso, vada con il Signore, perché il Signore non delude mai.